Al momento senza personale ad hoc non ci sono le condizioni per l'introduzione del Green Pass su bus e metro. Lo sostengono i sindacati romani dei trasporti per i quali bisogna puntare su distanziamento e mascherine. Intanto controlli sui certificati verdi sono stati fatti dalla Polizia Municipale di Roma in diverse zone della Movida, dove nel weekend è stato necessario chiudere alcune piazze a Trastevere. Sulla stessa linea il sindaco di Milano, se la situazione dei contagi da Covid dovesse peggiorare, potrebbe esserci una limitazione degli ingressi di persone, anche in Galleria Vittorio Emanuele. Grazie a tutti.